Troppo Barcellona per la Melfast Gela Basket che però va vicina all'impresa. Al Palaite si è arrivata la quarta sconfitta su cinque partite ma il divario sul parchè di Piano Notaro non è stato così netto. L'Orsa ha vinto 77 a 73 e ha mantenuto primato e imbattibilità. Il quintetto di Bernardo invece deve ripartire già domani dalla prestazione di giovedì sera. A Ragusa non sarà facile vincere ma la garra vista contro la capolista fa ben sperare per il futuro. L'inizio sembrava un film già visto, Barcellonesi avanti facile e Biancorossi a rincorrere. Primo quarto 12 a 23 ma dopo l'intervallo breve Amoruso e compagni risalgono la china e con un break di 8 a 0 sono portati a meno 3 dai giallorossi ospiti fino al 30 a 33 con il pubblico del Palaitis che si è riacceso. Alla pausa lunga Gela ha chiuso meno 2 con un 37 a 39 che lascia il match in bilico. Il terzo quarto è ancora equilibrato con l'Orsa che gioca ad elastico. Allunga di 6-7 punti ma si fa quasi riprendere da avventure e compagni che sognano quando il tabellone segna 54 a 55. Il terzo quarto si chiude però 54 a 59 e nell'ultimo step la squadra di Sindoni si assicura a un margine quasi sicuro. Finisce tra gli applausi dei tifosi di casa che hanno apprezzato il non mollare fino alla fine come invece era accaduto in altre partite. Domani a Ragusa non sarà semplice contro un'altra formazione che sin qui ne ha persa solo una. Iscriviti al canale